Due partite dalla promozione in Serie A2, un sogno percorso dalla squadra del Circolo Tennis dell'Aquila che vincendo a Reggio Emilia si è guadagnata l'accesso alla finale play-off contro il Circolo Tennis Albinea. L'impresa non è impossibile, affare da padrone in casa aquilana e l'entusiasmo dopo un'annata in Serie B ricca di soddisfazione e valorizzazione dei giovani. Quest'anno in particolare si sta veramente riscoprendo un forte spirito di squadra, si sta investendo veramente su dei giovani, ci sono dei ragazzi del nostro vivaio come Andrea Picchioni che stanno veramente uscendo fuori e a noi ci dà veramente tanta soddisfazione aver fatto un bel campionato e aver raggiunto questa finale, ci sarà domenica l'andata qui da noi e poi ritorno sempre in Emilia. Un movimento in crescita a livello nazionale e quello tennistico, obiettivo del Circolo Aquilano Peppe Verna essere un punto di riferimento sia a livello di impiantistica e sport che di socialità. La cosa importante è far sì che sia l'esempio e il coagulo per tutti i giovani e anche non giovani per riavvicinarsi allo sport. Ieri a Reggio c'erano veramente centinaia e centinaia di persone a tifare in un circolo molto importante dell'Emilia e qui vorremmo, come già è venuto le altre domeniche, ritrovare domenica un pubblico che appogge la squadra e che si avvicina proprio a questo modo di socialità. Grazie.